Ma quanto è bello arrivare in un bed and breakfast, aprire il frigorifero con in primo piano pure una bella rana e scoprire che al suo interno hai delle carote apposta per cavalli che non sapevi di avere in giardino. Beh ovviamente prendo queste giga carote o GM dato che sono in America e vi presento i miei vicini di casa per questa notte. Numero uno e numero due i B&B, quelli belli.